Benvenuti, nostri follower. Innanzitutto chiariamo a tutti che questo video non ha lo scopo di diffondere paura tra la gente, ma è solo ed esclusivamente un avvertimento. La tempesta sembra molto pericolosa e tutti i siti internazionali ne parlano, e questa tempesta è più pericolosa di quanto si possa immaginare. Pertanto, condividi urgentemente questo avviso con quanti più italiani possibile e sostienici anche premendo il pulsante Mi piace per questo video così potremo continuare ad informarvi sulle nuove notizie meteo. Grazie. C'è un'alta probabilità che l'Italia sia esposta ad un temporale molto violento nel periodo compreso tra la notte di domenica 8 settembre e la mattina di lunedì 9 settembre 2024. Questo temporale potrebbe essere il primo quest'anno e potrebbe causare molto grandi perdite e danni e un'alta possibilità che si formino uragani. Da quello che vedete sulla mappa davanti a voi, la tempesta inizierà nel nord e nel centro Italia domenica notte e raggiungerà rapidamente l'estremo sud lunedì, conseguentemente nella notte di domenica. Pioggia temporalesca accompagnata da forte vento, forte grandinata e rischio di grandi alluvioni in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Sardegna, lunedì. Il temporale raggiungerà Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia. Ripetiamo l'allarme. Il temporale potrà portare con sé quantità di pioggia molto ingenti, superando la soglia dei 100 mm, in pochissime ore, il che potrebbe portare al verificarsi di allagamenti, per cui è assolutamente necessaria cautela?